Terminati i lavori di realizzazione dell'ultimo tratto di pista ciclabile cittadina in zona Bloi che costeggia le vie Bloi-Mattarella, Pinelli-Averna e Vassallo. Le piste ciclabili rientrano nell'obiettivo di diffondere la mobilità sostenibile. L'uso comune della bicicletta come mezzo di trasporto urbano e veloce, economico ed eco-friendly viene sostenuto in moltissime città su tutto il territorio nazionale. Quando parliamo di mobilità sostenibile indichiamo quelle modalità di spostamento in grado di diminuire gli impatti ambientali, sociali ed economici generati da veicoli privati e quindi l'inquinamento atmosferico ed acustico come anche le conseguenze della congestione stradale e dell'incidentalità. Questa pista ciclabile che è stata di recente realizzata fa parte di una programmazione più ampia di quelle che sono le previsioni della mobilità dolce all'interno della nostra città. Ad esempio in questo momento si sono già avviati i lavori relativi alla realizzazione della pista ciclabile che collega Caltanissetta con Enna. Attualmente i lavori si stanno svolgendo ad Enna ma al più presto partiranno anche quelli per la realizzazione di una pista ciclabile che va dalla stazione ferroviaria centrale attraversando tutta la via Rochester fino ad arrivare alla zona di via dei Giardini. Questo farà sì che la conclusione dell'attuale pista ciclabile si innesterà con la nuova creando un unicum anche continuo tra le due piste stesse.